Noi siamo alla... Il senatore Giarrus si è riuscito finalmente a chiedere la parola sull'ordine dei lavori. La prego di attenersi al tema. Prego. Il tema è quello posto dal collega, che è la regolarità dei lavori di queste votazioni, signor Presidente. Non riesce a seguirmi. Io sono molto preoccupato, signor Presidente. Lo siamo qua tutti nel Movimento 5 Stelle e tanti altri di tanti altri gruppi, anche fuori da quest'Aula. Siamo molto preoccupati perché brutalmente quello che con un giro di parole è scritto nel resoconto d'Aula, che lei avrebbe dichiarato, quello che ha esposto il collega, brutalmente si chiama il fine giustifica i mezzi. E il fine sarebbe il risultato. Il problema è il mezzo. Il mezzo, signor Presidente, è la nostra democrazia, che non può essere calpestata per qualsiasi risultato, perché non appartiene alla maggioranza, signor Presidente. La nostra Costituzione, signor Presidente. Sull'ordine dei lavori che attiene alla regolarità dello svolgimento delle votazioni, signor Presidente. Noi qua abbiamo assistito a un fatto che molti hanno stigmatizzato individuandolo, e cioè il fatto che l'andamento dei lavori e le prerogative della minoranza fossero rimesse al voto della maggioranza. E questo, signor Presidente, è un problema gravissimo, ed è il problema al quale hanno lavorato nel 1946, per mesi, i nostri padri costituenti, signor Presidente. E quello che fa della nostra Costituzione, una Costituzione all'avanguardia e bellissima, perché i nostri costituenti del 1946 avevano presente il tracollo di ben due sistemi democratici, costituzionali. Quello tedesco di Weimar, crollato sotto il regime nazista, che era un regime parlamentare, e quello Albertino, che aveva la Costituzione, anche là crollato sotto il regime fascista, che era parlamentare ed elettivo. E allora si sono posti un problema. Le Costituzioni non bastano. Hanno posto un limite, signor Presidente. Il limite posto a quello che può fare una maggioranza in Parlamento. E questo limite lo hanno individuato in una serie di arbitri, signor Presidente. Uno di questi è la Corte Costituzionale, che è stata l'innovazione della nostra Costituzione. Ma non c'è solo la Corte Costituzionale, signor Presidente. Se anche lei, come Presidente del Senato, lei è un arbitro di questi limiti, di quello che può o non può fare una maggioranza in questo Paese. E allora io, signor Presidente, sono molto preoccupato, perché vediamo sempre più, ogni giorno, questi limiti calpestati. ha un solo terribile, orribile scopo, concentrare il potere nelle mani di uno solo, il potere esecutivo. Noi questo non ve lo permetteremo. Grazie per il contributo all'Ordine dei lavori. 1.1553